Tu mi dici il quest'anno, non ti ha messo in buza i radici, gli ultimi. Come ti ha fatto? Essendo che io ero moio e scirocco, i radici che mi cavai, gli ultimi sono stati in tre quintai, anche quattro. Cavarli, quelli che ti cavai, ti mettei sulla casetta, ti portai a casa, ti curai e ti vendevi. Il che ha cresciuto e ha fatto il suo cuore, beh, le qualità buone che gli erano, erano i propri interdivi speciali, cavalli nel campo e portarli a macà, molti più soldi dei primi messi in acqua e curai. Il che vuol dire che ora anche da solo, sul campo, c'è la vecchia. Da solo, se l'anno è sirocoso e che il radici è sano, senza nessuna malattia, non aveva nessun veleno, niente, solo l'anno è sotto, né sal, né questo, né peo, niente, cavallero a tre volte, e ho raggiunto il stanno e stamano così, raggiunto i bei fatti, cavalli nel campo e portarli a macà. Tipico radicchio di Treviso? Radicchio di Treviso. Come fosse stato passato in stalla o sulla musa dell'acqua? Forse è meglio anche perché tutti lo mangavano da costo ecco. Anche una volta è sempre stato successo. Qualche anno capita così. E ora non soffre, essendo bello, si acquerce con le foglie sue, perché si è nati apposta per il freddo di per sé. Naturali, nati sul campo, invece si è nati per l'inverno. E ora sta là. Se crescono spontaneamente, venivano i buoni, bei e bianchi. Il cuore gutta, essendo bello, e a buttare se venivano un vettore da solo. Sani, perfetti, ecco. Forse è più gustoso ancora che non ha messo l'acqua. E' un'informazione che mi interessasse. Sì, sì. Ma secondo me che ho visto su un quadro, anzi, non mi conto, un tipo laico, ho visto su un quadro nel Cinquecento ancora, che era dei panetti che parlano di ciò. Io dice che era il Radicchio di Treviso nel Mila e Cinquecento. Ma... Nessuna notizia che si è storica, che prima si è che era imparato a fare forza, cavarli, metterli in busto. sul campo e venivano fatte, mi togli quel carro sul campo e li curai, no? Cavai, messi sul campo a righe, tre, cinque, sie, no? Cinque, sie righe. Uno infia l'altra, tommassi a volta, e ora venivano fatte, mettete un po' di paia da solo, e li togli sul campo, ti portai a casa, che si scaldasse un poco, perché se ieri inverno freddo, proprio freddo, ti curai e era fatta. Anche in inverno? Anche in inverno succedeva, quando te ne avevi tanti, e che l'inverno era sierocoso e ti cava in una ora, ti mettei là, io vi ricordi che era il febbraio, il gennaio, anche, cavalli e metterli su, fare un solco. Dovrei, pochi patagani, che non c'è mai mare, che ne ha più mesi. Fai un solco, con la sua ricetta, in parte, un po' di terra, e dopo il baile, e in mezzo mettei due o tre massi, un solco, due o tre massi, sono altre, e fai un righe lunghe, e tre, affiancati ma? Due o tre, conforme che ti fai il uso. E anche, li mettei sotto la vigna, li mettei là, a righe lunghe. E era come riparare... con poco le fai, ti cattai i fatti, ti portai a casa, ti curavi. No, il mistero è che, appunto, nel 1800, eroti, 200 anni fa, nessuno che ti portavano. Era appunto là, appunto là, perché per natura, non occorre fare anche filosofie che fai, perché il radicio puro, come quello che avevamo degli ultimi, che avevano altri, ma gli ultimi erano più buoni dei primi, eh. Dici quello che ti vuoi. In natura? In natura, dalla terra al cassone, perché il radicio è nato per l'inverno. che chiamavano, i radici o i raizzi? Raizzi? Una volta, sempre raizzi. L'abbè, cominciò a dire radici, per il momento. Sì. Sempre raizzi, invece. che c'è? Raizzi? Sì. Eh, guarda, tia. Raizzi. E perché dite radici? Sì, c'è la patata con i raizzi.